E sul sax dei Changes di David Bowie rientriamo dopo il Crystal History delle 8 di oggi martedì 30 aprile sempre qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM e DAD Plus e anche le applicazioni non dimenticatele per app per iOS e Android e anche il sito internet crystalradio.it oppure lo sapete dopo la diretta potete riascoltare e rivedere tutto su goodmorning.milano.it 8.08 in questo istante iniziamo con i nostri ospiti di oggi iniziamo a dare il benvenuto a Filippo Ferrari PR Manager Italia di Togo Togo buongiorno Filippo buongiorno buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito di questa mattina ben ritrovato grazie a te di essere qui con noi perché oggi appunto festeggiamo il compleanno l'italico compleanno di Togo Togo 5 anni in Italia sembra ieri quando lo sapete che non so se Filippo devo dire confesso che non mi conoscieri tu o qualche tuo collega ma 5 anni fa quando siete arrivati siete venuti qua a raccontarcelo a Milano News e adesso siamo ben contenti di essere ancora qua dopo 5 anni a fare un bilancio interessante dell'operazione anche a livello diciamo sociale che avete fatto proprio per il salvare dei pasti che andrebbero se no persi giusto? assolutamente guarda ti confermo innanzitutto che non ero io ai tempi era qualcuno che c'era prima di me però sì diciamo che abbiamo celebrato da poco questo importante anniversario per noi in Italia dei 5 anni come dicevi giustamente tu siamo arrivati nel 2019 ed è stato un lungo percorso che ci ha portato ad oggi ad arrivare a contribuire a salvare insieme alla nostra community fatta da 9 milioni di utenti oltre 26 mila partner circa 19 milioni di pasti quindi vuol dire un grande impatto generato in questi anni calcola che di questi 19 solo 6 li abbiamo salvati nel 2023 quindi vuol dire che diciamo l'utilizzo e diciamo l'impatto che siamo riusciti a generare è stato esponenziale nel corso degli anni fino ad arrivare appunto ai numeri che ti dicevo all'interno di questo scenario diciamo brevemente cosa è Too Good To Go? infatti ricordiamo bene perché come si dice in questi casi non serve una presentazione ma qualche distratto c'è esatto giusto per dare qualche informazione maggiore quello che si occupa di fare Too Good To Go è cercare di ispirare e responsabilizzare le persone per contrastare lo spreco alimentare insieme e lo fa grazie alla principale soluzione che è la nostra app quindi che tutti possono scaricare, possono avere sul telefono grazie alla quale compiere dei gesti concreti e semplici come salvare del cibo grazie alla nostra app vengono messi in connessione i negozi e tutti quei, pensiamo ad esempio i negozi di vicina, i supermercati che hanno potenzialmente del cibo in venduto con gli utenti che lo possono salvare a un prezzo vantaggioso quindi diciamo a chi ci piace raccontarla come una soluzione win-win-win nel senso che è vincente per i ristoranti, per i partner, per i negozi che hanno la possibilità di andare a ridurre quelli che sono i loro sprechi per gli utenti che hanno la possibilità di compiere un gesto concreto salvato dal buon cibo, ancora buono, a un prezzo vantaggioso e per il pianeta perché insieme si riduce lo spreco alimentare un tema che come penso sai tu e sanno gli ascoltatori sta diventando sempre più centrale, sta diventando sempre più una necessità da affrontare calcoliamo semplicemente ad esempio, ti do qualche numero per darti un'invenza di quella che può essere la portata del fenomeno circa il 40% di tutto il cibo che viene prodotto nel mondo annualmente viene sprecato questo comporta una perdita economica di 1.1 miliardi di dollari e lo spreco di cibo è responsabile del 10% delle emissioni nella sera quindi questo per farti capire a livello sociale, economico, ambientale l'impatto di questo fenomeno e perché per noi di 2go2go è così importante andare a contrastarlo ed è vero appunto che siamo almeno di dati macroscopici dati che hanno a che fare con tutto il mondo poi però nel nostro piccolo si può fare qualcosa e questo piccolo a Milano lo si può fare con la nostra piccolissima bag lo possiamo fare appunto con 2go2go Filippo rimandi qui con noi, andiamo con un po' di musica ma poi torniamo ancora a parlare perché voglio capire appunto su Milano come va la situation e poi sono appunto 5 anni quindi insomma ormai siete maturi, cosa è cambiato in questi 5 anni insomma rimanete con noi che parliamo ancora di 2go2go dopo i pingüini tattici nucleari con Ridere alle 8 e 12 minuti Good morning Milano Pinguini tattici nucleari con Ridere e non si ride anzi si festeggia però perché insomma sono 5 anni in Italia di 2go2go lo stiamo parlando con Filippo Ferrari PR Manager Italia e Filippo insomma Milano invece come ha risposto in questi 5 anni e quali sono le attività avete sicuramente dei dati quindi quali sono le attività maggiori che ci sono iscritte appunto nella città di Milano perché ricordiamo che le attività si iscrivono all'app e poi a quel punto possono dare il loro il loro cibo che non vada sprecato lo possono dare ai cittadini giusto? Funziona così? Esatto, guarda sicuramente Milano secondo quello che abbiamo registrato è tra le città più attive ad oggi in città grazie a utenti e partner abbiamo contribuito a salvare dal 2019 oltre 1.600.000 pasti contando oltre 1.200 partner è un pasto Filippo è un pasto a testa più o meno siamo quasi 1.400.000 abitanti Milano quindi diciamo che è un pasto a testa ce la siamo salvati per la media tutti noi abbiamo salvato un pasto bene sono contento quindi come ti dicevo contiamo circa 1.200 partner attivi in città che vanno dai grandi supermercati dalle grandi catene fino ad arrivare ai piccoli negozi di vicinato come possono essere pasticcerie, panetterie negozi di ortofrutta ti faccio qualche nome per farti capire appunto di chi stiamo parlando parlando di supermercati ad esempio abbiamo realtà come Carrefour come Conad come Penny parlando di catene abbiamo Alice Pizza che appunto si occupa di pizza romana propone pizza romana è uno dei nostri partner passando poi per delle realtà locali conosciute delle piccole gemme locali come possono essere ad esempio la pasticceria gensomina piuttosto che la pasticceria cucciuto pandenus insomma tantissime attività di tantissimi ambiti che sono su 2go2go con l'obiettivo di fare qualcosa di concreto per cercare di contrastare lo spreco e quindi hanno trovato in 2go2go il partner ideale per riuscire riuscire a farlo e ti faccio una domanda invece ma cos'è che magari non ti aspetteresti di trovare su 2go2go che invece magari neanche voi lo aspettavate invece avete trovato qualcuno che ha messo quel tipo di c'è qualcosa di strano ma guarda ce ne sono tanti di esempi ah non solo uno ah ok ci sono diversi esempi di cose che magari uno non può aspettarsi ad esempio non lo so trovarsi a fine gennaio ancora dei panettoni perché diciamo rischierebbero di andare sprecati e quindi si preferisce comunque metterli in vendita ad un prezzo vantaggioso in modo che gli utenti possano portare avanti un po' quello che è il mood delle feste piuttosto che ad esempio delle non so delle verdure in una in una bag di frutta e verdura che non che non si sono che non si conoscono o che non si è mai cucinato prima poi invece danno la possibilità di sperimentare nuove cose perché c'è sempre all'interno delle nostre bag l'effetto sorpresa che piace e che dall'altra parte ti dà la possibilità oggettivamente magari di provare anche qualcosa che prima non avresti mai voluto provare e al contempo di trovare nuovi modi anche per poi andare a cucinarlo in casa o par o ad esempio prodotti dell'industria alimentare nella stessa nella stessa box tipo la pasta fino ad arrivare al caffè o piuttosto che il cioccolato questo ad esempio perché introducendo un nuovo progetto che abbiamo lanciato dalla nostra parte collaboriamo anche direttamente non solamente con diciamo le attività e gli esercizi commerciali ma anche direttamente con l'industria alimentare quindi in vita di salvare del cibo direttamente con le aziende alimentari un progetto che si chiama box dispensa sono acquistabili anche in questo caso sempre sulla nostra app vanno a contenere tutti quei prodotti che riusciamo a salvare in collaborazione appunto con le aziende abbiamo ad oggi circa 64 aziende che già collaborano con noi il progetto sta andando molto bene anche qui stiamo registrando dei risultati molto incoraggianti vi faccio due numeri abbiamo salvato in un anno da questa parte circa 4 milioni 800 mila prodotti per un valore commerciale di oltre 13 milioni e mezzo di euro quindi questo per farti capire come lo spreco sia presente lungo tutta la filiera e come ci si deve impegnare per cercare infatti perché insomma questa è una cosa interessante che appunto se lo spreco c'è tutta la filiera voi cercate appunto di intercettarlo in ogni passaggio di questa filiera e questo che è molto interessante e anche fa capire quello che avete fatto in questi 5 anni non siete solo rimasti lì a cercare diciamo negozi che vi dessero la loro bag ma avete appunto cercato anche di intercettare sempre di più lo spreco in questi 5 anni invece com'è cambiata la percezione dell'utenza diciamo del pubblico dei cittadini verso to go to go guarda abbiamo visto innanzitutto che i negozi diciamo collaborano con noi innanzitutto perché non vogliono più sprecare sembra abbastanza ovvio e dall'altra parte soprattutto perché capiscono anche il valore di associarsi a una realtà come noi siamo una società B Corp a impatto sociale quindi cerchiamo di andare a mettere insieme una finalità che possa essere appunto sociale con una finalità economica dall'altra parte gli utenti sono aumentati perché anche hanno capito che si può fare del bene nei confronti del pianeta dall'altra parte risparmiando quindi diciamo che in un periodo e in un contesto caratterizzato da aumento dei prezzi caro vita l'ottimo rapporto qualità prezzo che offre la nostra app le nostre bag sicuramente sono stato un incentivo anche all'utilizzo dell'app sapere di poter comprare il cibo ancora buono perfettamente consumabile risparmiando fino a due terzi del valore commerciale è sicuramente un incentivo è interessante anche Filippo perché appunto la sostenibilità anzi diciamo la questione ambientale anche battersi a volte per l'ambiente così diciamo che a volte è una cosa un po' di nicchia per chi ha i soldi per i ricchi ce lo diciamo effettivamente costa anche l'attivismo se lo diciamo in questo caso invece si risparmia facendo del bene al pianeta quindi c'è veramente win 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 assolutamente dall'altra parte la cosa che mi piace sottolineare è che tra tutti i temi e tra tutti i problemi che possono essere legati al mondo ambientale quindi al cambiamento climatico in atto sicuramente quello di ridurre lo spreco è quello alla portata di tutti in cui tutti con poco con una piccola attenzione quotidiana dei piccoli gesti concreti possiamo riuscire veramente a fare qualcosa e tutti i gesti se sommati uno con l'altro su scala possono arrivare veramente a fare la differenza e a fare in modo che le cose possano cambiare perfetto allora Filippo rimani qui perché è ancora un attimo con noi andiamo con un po' di musica e poi ancora poi per capire appunto cosa sarà nei prossimi 5 anni 2go2go e poi per ricordarci appunto tutte le coordinate per poter seguire al meglio e sfruttare al meglio questa possibilità che appunto nella nostra città abbiamo andiamo avanti con Angelina Mango Angelina Mango con la noia alle 8 e 26 minuti qui su Crystal Radio stiamo parlando di 2go2go 2go2go non è solo a Milano ovviamente sapete che per noi esiste solo Milano ma in realtà è in tante altre parti d'Italia e anzi sono curioso di sapere e attenzione come risponderai Filippo quali sono le regiografie quali sono le città leader nel non spreco alimentare devi dire Milano te lo dico allora innanzitutto parto utilizzo la tua la tua domanda per per segnalarti che lo spreco alimentare la lotta allo spreco diciamo non ha confini geografici quindi quello che noi vediamo è un utilizzo della app in modo trasversale su tutto il territorio ad oggi abbiamo riusciti a salvare almeno un pasto in due comuni italiani su tre quindi oltre cinque mila comuni quindi questo ti dà una diciamo un'idea della capillarità del servizio di quanto questo venga utilizzato dagli utenti entrando poi in più nel dettaglio su quelle che possono essere le zone le aree le città più antispreco in un'ottica regionale vediamo che la Lombardia sicuramente dal nostro punto di vista è la regione più virtuosa seguita dal Lazio dall'Emilia Romagna dal Piemonte e dalla Toscana per darti la top five per quanto riguarda invece l'aspetto prevalentemente cittadino abbiamo che in testa c'è Roma seguita però ovviamente da Milano quindi diciamo che le due città principali più grandi d'Italia si giocano un po' le prime due posizioni del podio a seguire Torino c'è Genova Bologna e poi abbiamo anche delle altre città non solamente grandi metropoli ma anche comunque città medie medio piccole pensiamo ad esempio che nella top 10 abbiamo centri come Modena Verona Padova oltre che Firenze Napoli quindi questo per darti un quadro di come sia in termini di grandezza di città che di posizione geografica diciamo l'utilizzo di Tuvo Tuvo è sicuramente etereogeneo lungo tutta la è infatti perché hai nominato grandi città ma anche piccoli città cioè piccoli città comunque città diciamo di media dimensione quindi davvero lo spreco alimentare come dicevo è trasversale e la volontà soprattutto di salvare questo cibo è trasversale assolutamente poi guarda grazie anche alla soluzione che ti dicevo prima quella di box dispensa quella di aziende alimentari diciamo riusciamo a essere ancora più capillari offrendo la possibilità di poter salvare del cibo ovunque ci si trovi ci si trovi in Italia visto che queste box vengono consegnate direttamente a casa quindi chiunque in Italia può salvare del buon cibo con Tugu To Go ovunque adesso si trovi ok allora rimani ancora qui con noi perché invece voglio sapere cosa succederà nei prossimi cinque anni di Tugu To Go che saranno poi i primi di altri cinque poi ancora altri cinque ma non prima di aver ascoltato Emma e poi anche qualche consiglio per gli acquisti perché eh sì abbiamo anche quella abbiamo anche la pubblicità qui perché se no non è che possiamo arrivare a fine mese quindi ascoltatela anzi mi raccomando e fate quello che vi dice si può dire non lo so se si può dire questa cosa ma va bene fa niente andiamo avanti con Emma Pnea poi torniamo qui con Filippo ancora a parlare di Tugu To Go andiamo avanti Emma Mahmood tuta gold chissà se i famosi cilieni ripieni di zucchero si trovano anche nelle borse di Tugu To Go non credo però non so hanno fatto i biscotti anche adesso ho visto cioè non so c'era solo una pubblicitaria credo però insomma si trova davvero di tutto e tutto molto buono in queste bag che potete salvare grazie all'app dallo spreco no ma lo chiediamo a Filippo Filippo Ferrari PR manager d'Italia di Tugu To Go allora 5 anni buon compleanno ma cosa saranno i prossimi 5 anni allora guarda in qualità di diciamo leader nella lotta allo spreco a livello globale essendo presenti in 17 paesi sicuramente quello che mi aspetto è che Tugu To Go continuerà a innovare introducendo soluzioni e tecnologie per contrastare lo spreco come ci dicevamo prima lungo tutta la filiera e consentire a tutti di poter fare qualcosa per poterlo ridurre come dicevamo ridurre gli sprechi è una necessità urgente per la nostra economia e per il nostro pianeta inoltre mi piace pensare ad esempio che un domani quando ad esempio andremo non so a fare visita in Francia in Spagna negli Stati Uniti prendere il telefono prendere il proprio smartphone per salvare una surprise bag possa diventare un riflesso diciamo immediato un'abitudine per tantissimi e se questo riuscirà e se questo accadrà vorrà dire che innanzitutto la sensibilità sullo spreco vorrà dire che sarà decisamente aumentata e sarà più elevata che le persone avranno forse cambiato definitivamente le loro abitudini di consumo verso delle scelte possano essere più sostenibili che i negozi in toto e le attività commerciali avranno capito l'approccio antispreco che è necessario portare avanti e questo vorrà dire infine che saranno ancora più presenti a livello globale e che quindi riusciremo a generare sempre più impatto grazie alla nostra community di partner Filippo hai detto una cosa interessante perché effettivamente si diventa un'abitudine quella di stasera cosa mangiamo aspetta prendo il telefono uguale a cosa c'è c'è già un tugu-tugu qua vicino a dove siamo effettivamente poi diventa un'abitudine che ti porti ovunque tu vai perché poi appunto 17 presidi del mondo quindi a quel punto anche se vado in vacanza anche se vado a trovare gli amici da qualche altra parte o se mi sposto in Italia tra una certa e l'altra può diventare un'abitudine abitudine che abbiamo già ad esempio con altre app per ordinare cibo che ci viene portato a casa effettivamente basterebbe diventare diventare un'abitudine quindi è un lavoro anche culturale il vostro nel senso proprio cercando di far diventare essendo una realtà globale poi sai avendo un servizio che può essere diciamo presente in così tanti paesi in modo così allargato anche l'abitudine di essere sempre interconnessi avere la possibilità di poter portare quello che tu fai quotidianamente magari nel tuo paese anche quando sei all'estero penso che possa essere una cosa infatti e in più sto pensando potete provare anche cucine diverse sto pensando se io vado a Parigi e voglio una trovo una creperie che mi fa to go to go sono a posto posso sperimentare la cucina francese con to go to go ad esempio quindi effettivamente mi è capitato a me di recente proprio di essere a Parigi ecco vedi è una cosa che abbiamo fatto insieme ai colleghi quindi ecco ecco assolutamente è un duro lavoro ma qualcuno deve farlo come si dice in questi casi Filippo immagino sia la parte più dura del tuo lavoro quella di andare in giro a cercare e provare le bag negli altri paesi Filippo grazie mille ricordaci le coordinate per appunto seguire scaricare trovarvi e come funziona ti trovate sui social quindi abbiamo tutti i canali attivi su Instagram to go to go per scaricare l'app semplicemente andare su gli store play store o apple store digitando to go to go semplicemente spreco alimentare sarà il primo risultato che vi compare in cima alla lista potete in pochi clic scaricare l'app e procedere a guardare un po' a localizzarvi gelocalizzarvi e vedere quali sono le attività vicino a voi da cui poter salvare del bag e allora salutandoti facendo anche complimenti a colui che gestisce la SEO dei vostri siti visto che siete primi in Google ti ringrazio davvero Filippo ci diamo appuntamento allora davanti con una bag una surprise bag la prossima ok facciamo un aperitivo surprise facciamo così va bene grazie Filippo buon lavoro e spot tutti i saluti appunto a to go to go e buon compleanno buon quinto compleanno speriamo di sentirci ancora per tanti altri quinti compleanni a presto grazie ciao andiamo avanti con la musica loro sono i Radio Rama con Allianz e qui si fa un salto nel passato era il 1986 e appunto i Radio Rama cantavano con Allianz andiamo a ascoltarla alle 8.40 qui su Crystal Radio Good Morning Milano ancora qualche minuto con noi e poi dopo di noi sapete senti questa con Ambrogio Curti il giornale radio insomma Crystal Radio inizia la giornata con noi ma va avanti tutto il giorno mi raccomando e poi potete tornare su goodmorning.milano.it per invece ascoltare rivedere il podcast il video podcast e tutti i nostri ospiti anche l'intervento di Filippo Ferrari di Too Good To Go e poi Grazie.